Il Centro di Occupazione, unimos una Semana Santa al 100% e ora stiamo organizzando il prossimo festival, la quinta edizione di Cruzando Fronteras che si lleva a cabo dal 20 al 27 de maio. Vanno a tenere 133 artisti internazionali di tutto il mondo Questo anno partecipano Bolivia, Argentina, Venezuela, España, Estados Unidos, Italia Sarà un gran evento e già abbiamo...